Dal 13 al 19 luglio Piazza della Repubblica ospiterà la diciannovesima edizione del festival cinematografico Roseto, opera prima una settimana di grandi nomi e grandi eventi. Noi puntiamo tantissimo, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, su questo evento, perché è quello che culturalmente ci qualifica. Vogliamo un'evoluzione di questo evento nel senso della visibilità e dei contenuti anche, quindi ci impegneremo a migliorare il format per i prossimi anni, per quest'anno avremo la presenza della cucinotta come madrina la sera dell'inaugurazione e quindi poi le sei serate a concorso saranno di seguito e poi sabato prossimo il 19 ci sarà la premiazione. Grandi personaggi perché ogni sera avremo gli ospiti relativi ai film che andranno in proiezione e diciamo che ci aspettiamo tantissimo sia come presenza ma anche come riscontro mediatico da questa cosa perché la nostra è una rassegna che riguarda le prime opere dei registi, quindi è un modo per celebrare anche l'ingresso in un mondo particolare da parte di questi giovani, quindi è un augurio che facciamo a tutti coloro che hanno partecipato e abbiamo un albo d'oro notevole che partecipano quest'anno e che parteciperanno, quindi è un augurio anche a Vinca il Migliore.